una giornata molto particolare che spiega anche oltre al significato della presentazione di questo libro perché ci sono tante autorità che girano per questa realtà oggi sono 12 anni, esattamente 12 anni, questo territorio è stato colpito dal Sisma era il 26 settembre del 1997 e oggi celebriamo il dodicesimo anno e credo che questo sia il modo migliore per celebrarlo perché il terremoto che poteva mettere in ginocchio questo territorio in realtà ne ha esaltato le virtù e dopo la ricostruzione ora si parla anche di un possibile rilancio di un rilancio attraverso quella formula che prima veniva indicata di coniugazione tra la cultura, i valori storici, i beni culturali, i valori ambientali e la nostra tradizionale intraprendenza perché non bastano solo le risorse finanziarie sindaco quelle magari si trovano, riusciamo anche a reperirle se non ci arriva la regione possiamo chiederle allo Stato se lo Stato non c'è soldi perché vive in un momento di particolari crisi c'è l'Europa, l'Europa spesso ci ha assistito in grandi operazioni di carattere culturale se non c'è l'Europa come istituzione c'è la Banca Europea degli investimenti ma quello che dobbiamo recuperare nei settori della cultura e del turismo è la capacità di intraprendenza che c'è in altri settori della nostra vita comunitaria grazie a tutti